In questo breve filmato voglio mostrarvi una vettura davvero intelligente, si tratta di una Panda Van 1.3 Multijet immatricolata nel 2014 e con 151.000 km di percorrenza, ma con almeno altrettanta strada da poter effettuare nei prossimi anni perché sono vetture che fanno almeno 300.000 km, ok? Arriva esposta, quindi ve la potete scaricare, deducibile, detraibile, tutto al 100%. La trovate all'Alenticar, a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Vavia. La prepariamo nella nostra afficina, vi diamo la garanzia. Non sbagliate il concessionario, ok? Non andate da chi vi vende la fuffa. Ciao!